Sì, sapevo di star bene, sono arrivato qua con la convinzione e la condizione di poter far bene. La squadra mi ha supportato al 110%, hanno tirato da una metà corsa in poi all'arrivo, mi hanno tirato una volata veramente straordinaria, non mi era mai successo in tutti questi anni di professionismo e dilettantismo anche di partire una volata veramente di testa, però è andata bene. Sì, il percorso qua mi porta fortuna perché ci ho già vinto due volte e adesso rimane ancora venerdì, quella di finale Emilia, un anno mi ha portato bene e quest'anno speriamo sia l'anno che mi porti bene.